Come città, diciamo. Sicuramente sarà stata una grande città. È stata distrutta, non ha un centro proprio piccolo. Adesso la faccia con la destra. Non hai un centro. Non ha un bel centro piccolino, proprio questa viazza così lunghissima. Poi non puoi, cioè non sei libero. Strane, ci sono le biciclette che passano. 10 macchine. Non sono pure macchine. Andiamo a poco. Ma è che si è proprio... Il torone è bello perché si è proprio che sia una città migliore. Ma lì non passano le macchine. Sono quelle che devono portare il cibo. No, non abbiamo guardato quel telefono. In chase alla passano, dove stiamo mangiare il cibo. Eccolo un Non leggete, ragazzi. Aspetta, Caterina. I libri nuovi, quelli di usati, no. Lascia, Caterina. Lascia, Caterina, Caterina. verde e giallo usiamo tutti i colori ma questo sembra che forse era un po' trasluzato la X, la T, E, B, C M, F, C C, O guarda che bellezza questa è la sinagoga mi ricorda che bellezza si si quello è della Orto Doss è una bellezza eccolo lì l'hai visto? per favore venite qua per favore per favore